Credo che sia un terreno importante sul quale confrontarci, ma rifuggendo dal tentativo che molto spesso abbiamo vissuto sin qui di scaricare sulle regioni tagli che molto spesso diventano insopportabili ai fini della stessa sostenibilità. Noi abbiamo una manovra finanziaria che è l'ultima prodotta da Renzi e che verrà approvata, spero non con questa forma, ma se così fosse noi avremo di nuovo il sistema delle regioni che saranno costrette a tagliare un'altra volta anche sulla sanità. E magari a farlo regioni come la Puglia che escono dalle secchie di un piano di rientro che ha soffocato molto le discrezionalità e che ha prodotto danni importanti. Perché se stiamo alla Puglia il blocco del turnover imposto dal piano di rientro ci ha prodotto la sottrazione di 6.000 unità lavorative tra medici, infermieri e operatori negli ultimi 5 anni. La sostenibilità va accompagnata dalle risorse finanziarie necessarie, non si può più immaginare di dire che bisogna tagliare. Sì bisogna tagliare, gli sprechi bisogna toglierli, bisogna fare la centrale unica di acquisto, bisogna fare tante cose. Ma poi fatte queste, a me sembra che regioni come la Puglia un po' di queste le hanno già fatte, c'è bisogno anche di accompagnarla con le risorse finanziarie per assicurarne l'efficacia e anche la possibilità che il cittadino non abbia classificazioni di serie B.